Eccoci qui ancora insieme per parlare del tema ricostruire legami spezzati dopo una frattura, dopo una discussione, dopo una guerra tra stati diversi. Adesso parlarne in queste giornate in cui siamo all'interno di un momento così conflittuale non era previsto, avevamo pensato questa puntata prima di quello che stava accadendo, ma anche un po' in previsione di una situazione che già appariva di grande conflittualità e di difficile gestione. Lo è perché anche stanno succedendo eventi rivoluzionari anche all'interno dello stesso mondo della Chiesa Cattolica. Papa Francesco ha portato una sua visione completamente nuova della Chiesa creando una grande platea anche nuova di fedeli che lo acclamano ogni domenico, ogni momento in cui lui si sposta nel mondo, ma creando anche delle divisioni all'interno del mondo cattolico, divisioni di potere, divisioni di qualcuno che cerca di mantenere le posizioni, divisioni di pensiero. Questo dibattito sta animando molto la Chiesa. Certamente negli ultimi mesi abbiamo visto alcuni avvenimenti importanti proprio nell'indicare delle strade positive per il futuro. Penso al Sinodo sulla Famiglia che è stato un primo cammino interessante proprio per la condivisione. Penso anche al convegno di Firenze, il convegno ha fatto maturare una condivisione vera. Questo lavoro comune che ha visto allo stesso tavolo vescovi, laici, religiosi, religiose, giovani, meno giovani, è stato sicuramente un lavoro proficuo che sta iniziando a muovere i primi passi anche in tutte le comunità, proprio perché il Sinodo anche nella sua etimologia ci indica proprio un cammino da fare, un cammino da fare insieme. Quindi è chiaro che quando Papa Francesco si richiama alle tematiche del dialogo a livello interno alla Chiesa come a livello internazionale, certamente smuove le coscienze, smuove le coscienze interne alla Chiesa, esterne alla Chiesa, smuove anche certamente posizioni di potere e questo crea inevitabilmente dei conflitti e crea inevitabilmente delle resistenze. Io penso che però quello che è il riscontro che lui ha nelle opinioni pubbliche ma anche nei fedeli, anche nelle altre confessioni cristiane, nei fedeli delle altre religioni, ebraismo, islam e anche le religioni orientali, ci dica veramente che questa strada è una strada per molti versi necessaria in un mondo così lacerato. Non penso che questo seguito sia soltanto un seguito mediatico o potremmo dire epidermico momentaneo, ma è un seguito davvero che viene dal profondo perché lui sa essere in sintonia con ciò che sente, con ciò che sente il popolo. Quindi certamente ha una capacità. Adesso gli ultimi messaggi che ha lanciato, perché di fronte a quello che sta accadendo è ovvio che la prima ripercussione sarebbe facile da immaginare, che si fermi quel dialogo che ormai era intrapreso appunto di confronto e di rispetto tra religioni diverse, dall'ecumenismo con le religioni cristiane, ma anche il dialogo con religioni completamente diverse. Invece lui ha dato questi segnali, porte aperte al Giubileo e poi anche porte aperte nelle relazioni, quindi ha detto no alle porte blindate proprio recentemente. È un po' come quell'amico di cui si diceva prima che mantiene un po' calmi, che dice no no, tutto a posto, adesso procediamo. Non è così, ma insomma lo sforzo è quello. Certo, è interessante questa condivisione, dialogo di vita che lui indica anche con le altre confessioni cristiane e le altre religioni. Mi piace ricordare che l'anno prossimo saranno i trent'anni del grande dialogo preghiera interreligiosa ecumenica di Assisi, che da Giovanni Paolo II poi si è così diramato per trent'anni e che oggi veramente ha una nuova attualità, perché certamente trent'anni fa potevamo vivere in un mondo che vedeva quasi la caduta del muro, quindi c'erano tante speranze. Oggi questa speranza viene rilanciata proprio con un evento comune. È sempre importante sottolineare che per dialogare bisogna comunque essere in due, quindi bisogna vedere se rimarrà la disponibilità e il dialogo anche dall'altra parte. Ma diciamo che non solo due, ma un dialogo anche multilaterale. Almeno due. Almeno due o più. Anche ad Assisi c'era veramente una comunità di leader religiosi e penso che questo possa aiutare perché a volte la dinamica a due può essere anche viziata da certi comportamenti, mentre il gruppo, questo vale per tante comunità, vale anche per i nostri popoli, per le nostre società, certamente una spinta al dialogo che viene comunitariamente può costringere diciamo in positivo anche chi sarebbe reticente a intraprendere questo dialogo. Bisogna fare scuola di riconciliazione anche ai nostri politici, a chi ci governa, perché sarebbe una scuola, una palestra molto importante. Penso che le grandi diplomazie di questa scuola la sappiano fare, insomma almeno. Abbiamo intervistato un'altra persona interessante all'interno del convegno. Ci ha riportato su temi molto più collegati alla cristianità, alla riconciliazione con Dio sostanzialmente e il suo intervento era ma il dono di grazia non è come la caduta dall'Adamo frantumato al Cristo ricapitolatore. Parliamo di Francesco Scanziani che è un teologo che più o meno ha riassunto anche la storia che conosciamo tutti, quella del Vangelo in cui si parla di Adamo che si distacca appunto da Dio e di come attraverso la figura di Gesù Cristo questo processo di riunione sia possibile. Sentiamo l'intervista e poi la commentiamo. Chi non ha provato nella sua vita un sentimento di sentirsi diviso, di aver commesso magari un peccato, di aver fatto qualcosa di sbagliato e correggerlo è sempre molto difficile. Lei ha dato una lettura ovviamente partendo dai testi della fede cristiana e ha parlato di un percorso, quindi già pensare che è possibile è già una strada. Certo è una speranza. La citazione che facevo all'inizio di Sant'Agostino invita al coraggio dire questo percorso è possibile perché il protagonista è Cristo, ma questo corrisponde anche molto all'esperienza umana. Penso che sia efficace ciò che ho trovato nella testimonianza della vedova calabresi, quindi che è qualcosa che abbiamo vissuto anche a livello nazionale. Ricorda che nel momento in cui fu ucciso suo marito le venne proposto di mettere come frase quella la parola di Gesù in croce, padre perdona loro perché non sanno quello che fanno, ma in quel momento non era in linea, non pensava neanche al perdono, però accettò e con il tempo si domandò ma com'è possibile che Gesù, che è Dio, non dice io vi perdono, ma padre perdona loro? Ecco, questo l'ha illuminata proprio su questa esperienza del tempo che richiede il perdono. Dice forse perché anche Gesù sa che abbiamo bisogno di passare da Dio, chiedere che Dio perdoni e poi Dio dà a noi tutto il tempo necessario perché questo pian piano maturi nella nostra vita e forse questo può chiedere tutta un'esistenza. Credo che sia un dato profondamente umano ma quindi anche squisitamente teologico. Ecco, la frattura dà l'idea di un oggetto rotto che è quasi impossibile da riportare alla sua forma originaria anche nelle relazioni interpersonali, si dice spesso ormai quando il vaso è rotto non torna più tutto come era prima. Come fare allora? Accontentarsi dei cocci? Ma prima di tutto credo che sia giusto rompere questo immaginario, il partito della torta tagliata, del vaso rotto perché questo ci carica di un peso che è eccessivo e dobbiamo ricordare che questo nasce dal modello greco che pone un ideale di perfezione appunto senza fratture. L'ideale cristiano che però corrisponde molto di più alla realtà umana è un ideale di comunione e allora la comunione si può sempre ricreare, si può sempre realizzare, magari con fatica e non si nasconde il dolore, il tempo e la fatica ma se l'obiettivo è la comunione, ossia l'amore questo rimane sempre possibile e questo dà speranza a tutti. A proposito della preghiera, la preghiera per un cristiano è anche confidare in un miracolo, in una soluzione, in una grazia in un intervento che metta una soluzione a un problema che abbiamo. Tante volte però non basta? Non basta se intendiamo la preghiera come chiedere che Dio faccia qualche cosa al posto nostro. In realtà se rendiamo concreta la preghiera che è il dialogo con Dio, che è lo stare di fronte a Dio vuol dire già che noi ci mettiamo in relazione con la persona di Dio e allora non siamo più soli a poter aprire il nostro cuore o al perdono o alla richiesta di perdono o a gesti di riconciliazione. È come dire, forse prima di tutto dobbiamo approfondire la ricchezza della preghiera cristiana che è già un creare relazione. La visione che ci ha dato Francesco Scanziani ci vuole, bisogna un po' sporcarsi le mani anche, non basta solo pregare. Certo, direi che della sua relazione possiamo recuperare questo elemento, questo elemento pragmatico, questo elemento anche, dicevamo prima, del dialogo come un cammino, un dialogo che non è facile, che sicuramente va iniziato con fatica e che va perseguito anche con pazienza, ma lui diceva anche con amore. Quindi se abbiamo chiaro l'obiettivo finale, che è quello di una comunione, di un amore, certamente è possibile mantenere vivo questo dialogo, altrimenti il tempo non diventa più il tempo del perdono, della riconciliazione, ma il tempo dell'oblio, del dimenticare ciò che è successo, ma non sanare veramente la ferita. Dobbiamo fermarci ancora un po', torniamo con l'ultimo capitolo che riguarda la conciliazione nel penale, quando c'è di mezzo un processo penale. Ci vediamo tra poco.